...e l'Unione Europea, Trofeo Pirelli, quindi riservate di occhi più esperti, dalle ore 11.20 alle ore 11.15 alla lontana per la seconda sessione, quindi vai da anche in questo caso, ovviamente per la prima parte di partenza di gara 2. La prima gara è un problema passale alle ore 12.15 con la gara 3.15.